The Show Fatti vedere, vieni qua subito, muoriti, vieni qua subito, vieni qua dai Bello, sono sotto casa tua, scendi, scendi Aspetta, noi abbiamo tre scudenti, l'altro 17 ce l'ha rubata la Juve Ogni domenica è la stessa storia Non solo la nostra squadra del cuore ci fa soffrire Ma ci si mettono anche gli amici, pronti a farsi sentire ad ogni sconfitta Que pirla, la tua squadra di Somari ne ha prese altre quattro questa domenica, cambiala va? Ma non dovete più preoccuparvi, da oggi c'è... Lo sfogatore Senti Mario, tu hai un amico che ti prende in giro quando l'Inter perde? Ti chiama Francesco E poco fa, siccome lui è a Juventino, l'Inter ha perso con la Juve a San Siro E ha rincairato la dose E è parecchio Sì, purtroppo un milanista Sì, sì, ha voglia Ti vuoi vendicare? Sì, ci può fare Sì, sì, perché no? Perfetto Basta che tu mi dia qualche dettaglio su di lui Il suo numero di telefono e lo sfogatore, ovvero io, mi sfogherò al tuo posto Come si chiama? Daniele, dacci dei dettagli su di lui Lui è fidanzato, però apprezza sempre il genere femminile Quindi fa un po' il farfallone Eh, sì, è un tipo allegro, quindi piace ridere e scherzare, ecco È un medico Che lavora al Santa Chiara di Pisa in psichiatria Si è sposato da poco Come si chiama la moglie? Francesca Francesca, lui hai detto? Francesco Una fantasia Come si chiama il tuo amico? Mi chiama Francesco È molto fissato per i capelli, per la barbetta Deve essere sempre preciso Quindi è un fighetto Sì, sì, è un fighetto Fighetto Che lavoro fa? Lui ha una ditta Tipo mette a posto i lettri domestici Lavatrici, frigoriferi Lui è juventino, quindi Brutta bestia, brutta razza Dove è andato in vacanza ultimamente? In vacanza mi pare quattro giorni amico non si è stato Con la fidanzata? No, no, con degli amici, solo quattro giorni Quindi come si chiama questo amico? Alberto Che cosa fa nella vita? Sta a Roma a studiare Cosa studia? Ha un'accademia per i videogiochi, se non erro Finanzato? Sì, sì, la ragazza però sta fuori sede, diciamo È un spiegato che gioca a Fortnite dalla mattina alla sera Che cosa fa questo zio? Mio zio lavora a ristorazione Quindi cosa fa? Lo chef, il cameriere? Sì, è uno chef, sì, è un ristorante di proprietà Ha inei, ha pochi capelli Zero capelli È basso, è pelato Come si chiama il ristorante? Il camionetto Il mio amico, vabbè, di lavoro fa il calciatore È sempre curato Quando ride? Ha uno spazio tra i denti, sembra che gli manca un dente Quindi c'è pure il papa lì con l'Angelus Lo chiamiamo, lo chiamiamo Pronto? Sì, pronto Francesco? Sì Sì, sono gatto Chi? Sì, Alberto, Alberto, sono il tuo paziente Sono molto arrabbiato con te Perché non mi hai invitato al tuo matrimonio Ma io non ti conosco Vergognati Sei pure un pessimo medico Io non so che tu sia, veramente Ascolta, io lo so che tu hai fatto finta di niente Di non mi hai voluto invitare Perché da piccolo hai avuto un flirt con Francesca Tra l'altro, gran cavalla Ma non... Non so chi tu sia, dove ti avrei seguito? Dove? In psichiatria, dove? Non... Ma io non ho mai avuto un paziente con questo nome, quindi... Sì, ma allora non te li ricordi, eh? Come non ti ricordi il flirt che ho avuto con la tua fidanzata? Ti dico un'altra cosa C'hai anche le corna? Scusa, ma... Come fai a sapere? Te l'ho detto, so tutto io Pronto? Pronto Alberto? Sì Oh, mi senti? Senti una cosa, ci siamo visti settimana scorsa a Roma Non ricordo Vabbè, ricordo io perché facevi un po' il figo Con i videogame di qua, di là Hai presente? No Hai fatto un po' troppo il fenomeno settimana scorsa, bello? Ok Allora, tu hai passato una serata a fare il fenomeno Io programmo di qua, faccio l'accademia di gamer Volevo dirti una cosa, innanzitutto sei uno sfigato Ok Perché giochi a Fornay dalla mattina alla sera Però poi vogliamo scommettere che io esco con la tua tipa? Che tanto tu sei a Roma e io sono a Bisceglie Non ho capito davvero chi c'è, sei uno Cioè, voglio sapere una cosa Mi sta pronto per il culo di semente Perché ci siamo visti a Roma Come fai a stare a Bisceglie Come sai che fai a Bisceglie Poi chi c***o sei che ti ricordi di te Pronto? Sì, pronto Ciao Francesco Sì Sì, ciao, ciao, ciao Buonasera Senti, tu sei venuto a casa mia Mentre mi ha posto la lavatrice due settimane fa Sì Sì, no, non ti preoccupare La lavatrice è tutto a posto Mi è sorto un dubbio Sì, ma tu per caso Quest'estate sei venuto a Mykonos in vacanza? Sì Sì, no, perché Sicuramente ero lì con il mio compagno E sai com'è? Poi Mykonos ha una meta Molto Eh? Volevo sapere se potevamo uscire insieme No, ma è sbagliato È sbagliato persona Perché non è Non è quello che voglio Tu ho visto con questo ciuffo fatto bene Barba curata Senti Non mi interessa niente Ma scusa Francesco Ma perché dici così? Senti Francesco io te lo dico Cioè Da quando ho mai messo a posto la lavatrice Ho avuto questa connessione di testa Ho ricordato Quando tu arrivavi con questo ciuffo Vabbè dai Ciao, ciao Sono Alberto Ah, Alberto? Sì, Alberto L'altra sera sono venuto a mangiare da te Nel tuo ristorante Al caminetto Eh Ho mangiato molto bene Però a fine passo ho trovato dei capelli nel piatto Eh, ma io non so chi sei Quello è il mio problema Prima risolviamo chi sei Così poi Sono qui Non è che erano i tuoi? Sì, dove sono? Sì, ma perché io t'ho visto Che tu hai pochi capelli Non è che sono scappati dentro al piatto? Io non ti conosco Non lo so Non lo so No, ma io poi t'ho anche visto Che uscivi fuori dalla cucina Difatti il Ribassino Graziano Nano Sì, esatto Un metro e cinquantotto sono Ah, esatto Mi dimmi che devo fare Come dopo posso risolvere il problema Lo risolviamo Eh, no Quello che volevo sapere innanzitutto È perché non stai attento ai tuoi capelli Che alla fine li hai persi tu Non è che i clienti li devono mangiare Sì, buonasera Mirko È l'insurbo? Una cosa al volo Lei gioca nel Biasson Perché l'ho vista domenica Ah, sì Sì A parte la prestazione Che ha fatto un po' Cagare Eh, lo so Purtroppo ci è andato un po' male Lei, in mezzo ai denti Ha una finestra? No, ma non ho Le manca un dente? No, non mi manca un dente Vabbè, senta Non so chi sei Senti Se mi vuoi dire chi sei Allora io sono un osservatore Sono un osservatore E ho notato questo aspetto Sì, pronta Dove che parlo? Ciao, sono Gatto Ciao Alberto Ciao Chi sei? Scusa? Sì, ascolta Tu non mi conosci personalmente Ti spiego una cosa Io t'ho visto l'altra sera Al Bar Verdi Ho visto che facevi il pirla Con la mia fidanzata Con la tua fidanzata? Sì, t'ho visto che facevi il pirla L'altra sera quando? Io non c'è Che f***o Guarda che non sono mai stato Al Bar Verdi L'altra settimana T'ho visto? Non fare lo scemo con me L'altra settimana quando? Spiegati Ma chi sei tu? Scusa Io sono Gatto Io sono scemo con tutti Ma roba Io non ho parlato con una ragazza Sì, sì Io non so di quale ragazza Stai parlando Sì, sì, certo Secondo quale problema? Cosa è successo? Il problema è che tu continuavi a fare il cretino Con la mia ragazza Ma che c***o stai dicendo? Ma che credi di parlare? Scusa Forse sbagli persona Oh Daniele Sbagli persona No, io ti spacco la testa Dai, fatti vedere chi sei Io fai Sì, il merdi adesso Dai, muoviti Arrivo? Vieni, vieni Muoviti, vieni qua Fatti vedere Vieni qua subito Muoviti Vieni qua subito Vieni qua Fammi vedere Dove sei Pagliaccio Vieni qua, dai Muoviti Bello, sono sotto casa tua Scendi Scendi Ah, ma mi ha messo giù Ma mi ha messo giù Ma mi ha messo giù Adesso lo richiamiamo questo Daniele La devi smettere di provarci con la mia ragazza E smettila anche di rompere le scatole a Rudy Che appena ti chiama Poi la tua squadra pareggia È uno scherzo telefonico Perché era impossibile Come? È al Barverdi Come? Sei al Barverdi Ciao Daniele Vabbè, salute Ciao Daniele Devi smetterla Di prendere in giro Mario Quando perde l'Inter Comunque scusa Ma che è uno scherzo Oh bravo I miei pazienti Mi ricordo Tutti Milanista Milanista maledetto Devi smetterla Tu la devi smettere Di rompere le palle Eh? Al tuo amico Fabrizio Gobbo maledetto Che non sei altro Gonzalo Gonzalo Ma che cazzo Guarda È uno scherzo fuori San Siro Capito? Comunque Glielo dico Lei deve smetterla Di prendere in giro Mattia Va bene Non è che deve dire va bene Mi scusi Non rida Se no si vede il buco Poi tu hai così pochi capelli Come i trofei della Roma No i trofei della Roma Ce ne abbiamo Ce ne abbiamo abbastanza Sì abbastanza non mi sembra Nei due Abbiamo tre scudetti Sì no tre Tu hai tre capelli Come tre trofei che avete Tre trofei in croce Aspetta Poi abbiamo tre scudetti Nel 13 a 17 Ce l'ha rubato E la Juve Sono 20 Sì vabbè Adesso Alè Champagne Forza Inter Ha detto forza Inter Zio Si è voluto sfogare Lo sfogatore Una figura di cui Questo paese aveva bisogno Cioè non so se Più di un governo solido Più di un governo solido Per risolvere i dissidi tra tifosi Se volete vedere ancora Gatto Tornare fuori dagli stadi Dai tifosi A chiedergli Di sfogarsi Con dei loro amici Che li prendevano in giro Per i risultati della loro squadra Arriviamo a 100.000 like E scriveteci nei commenti Che tifosi volete vedere Alle prese con lo sfogatore Abbiamo fatto con gli interisti Insomma Sarà facile Scrivere milanisti Juventini Scriveteci Scriveteci una tifoseria Che nemmeno La squadra sesta Sa di avere Tipo No non diciamo tipo Perché chi siamo noi Per giudicare Non lo so Però tipo la Ternanna Che vi vide La Ternanna è una grande squadra Provercelli ha vinto più Su Ficuretti Se ci scrivete Il Chievo Verona C'è un problema Perché non hanno i tifosi Quelli del Chievo Lo sai che Siamo degli asinelli Che volavano No è il meme Che non vanno mai allo stadio Perché la curva vuole Un quartierino Vabbè ci siamo capiti Instagram Assolutamente Alberto ha un Instagram Bellissimo Perché è un bell'uomo Ma anche perché parla di calcio Quindi quelli di voi Interessati al calcio Possono seguire Anche gli altri Non c'è problema Però nel frattempo È un po' tematico Ci sono dei bambini Che urlano Perché Sì noi Per arrotondare Abbiamo un asilo Qui dietro Li teniamo nel pomeriggio Ragazzi ma non preoccupatevi Iscrivetevi al nostro canale Cliccando qui Perché chi si iscrive Al nostro canale Ha due mesi gratuiti Nel nostro asilo nido